Come modificare la modalità punto vendita nelle Smart TV LG Modalità casa, modalità negozio Scegli un posto dove guarderai la TV Se si seleziona modalità negozio, le immagini sono impostate su valori ottimizzati per la vendita al dettaglio della TV Premi impostazioni sul telecomando Tutte le impostazioni e impostazioni generali Nella sezione dispositivi, vai a gestione TV Clicca su modalità casa, negozio Qui puoi vedere le due opzioni, modalità casa e modalità negozio Scegli la modalità che stai cercando Clicca sì per confermare Questo è tutto Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito Grazie per la visione Grazie per la visione